Ciao io ed eccoci qua in questo giorno finale del natale contro frozen Che fai copi oggi faremo una sfida differente ci siamo sempre sfidati su videogiochi è arrivato il momento Di sfruttare il fatto che siamo fisicamente un accanto all'altro Per una sfida con cinque giochi in real life in poche parole Questo decide tutto sei pronto pensavo dicessi è arrivato il momento di farci una vita Beh è arrivato il momento di farci una vita anche dopo questo natale contro frozen lasciamo entrambi youtube Carta forbice sasso alla meglio di cinque pronto se questo decide tutto il natale contro frozen è Siamo delle teste di minchia siamo finiti con sasso e carta forbice ok 1 2 3 1 2 3 3 Cazzo pensavo troppo uguale E' merda 1 2 3 3 Stiamo con i giorni 1 2 3 3 1 1 1 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 3 quasi è stato vincere sempre 1 2 3 nooo siiii lo vedi questo? 1 a 0 allora basta basta sfida dei dadi abbiamo 2 di 20 utilizzare chi riesce a tirare il numero più alto prende un punto per questa sfida quindi a 25 chi prende i primati punti vince questa fase qua abbiamo dado blu e rosso io voglio quello blu ovviamente è il mio canale il mio canale è blu ok il mio è abbastanza rosso hai ragione ti concedo l'onore del primo tiro 3 nooo frasco metti che faccio 2 nooo faccio 2 cacchio faccio 2 10 10 10 chi se lo aspettava 1 a 0 vai con una testa volta prima io vai con una testa volta ok vado prima io vai con una testa volta è fuori da inquadratura va bene lo faccio vedere faccio vedere 13 è un 13 è sopra la mente tecnicamente devo tirare sopra la mente tecnicamente vai fallo questo è 20 questo è 20 13 wow come è possibile se ne fa se ne fa facciamo insieme facciamo insieme stavolta 3 2 1 vai fra ho fatto 3 18 18 1 a 1 un punto a me 1 a 1 guarda al centro ora tocca a te adesso la tiri fuorissimo vai 16 wow 16 uuuuh tostino faccio 20 eh tostino 16 da batte eh tostino 16 da batte eh no è fattibile tostino 16 da batte eh tostino 16 da batte eh ahahah è come fare 20 eh spallimento critico è come fare 20 eh 2 a 1 2 a 1 2 a 1 tirare di nuovo mi inizio comunque io ui 1 porca di quella puttana fra se faccio un'altra volta 1 è difficilissimo a perdere con il massimo pareggiare vuoi dice eh beh chissà chissà aspettava 2 volte 1 2 2 insieme insieme palesemente insieme 3 2 1 4 7 yes nooo puttano il gravide lancio della moneta molto digitale tra l'altro un telefono che riprende un telefono che lancia una moneta col sound vocale proprio testa o croce è croce ok google tira una moneta è testa da 0 1 a 0 1 a 0 guarda che vince o non si cambia croce ok google hai fatto croce 1 a 1 tengo testa è croce di nuovo allora io dai 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 non guardo è testa è inutile che non guardi te lo dice in alta voce si infatti e io scelgo testa hai fatto croce 3 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 è impossibile 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 è il tuo momento è il tuo momento dammi in uno 9 buono il 9 è molto buono è la media alta è la media alta ricordiamo che i mazzi io ho mischiato il tuo e il mio quindi come va va quindi come va va è impossibile barare se lo mischi davanti mago ci riesce infatti qua dietro ci sarà un re 2 a 1 2 a 1 non ci ho provato ci riuscivo veniva figata sono ancora in vantaggio basta uno sbagliare 3 di seguito per probabilità dovrei esserci e cazzo e cazzo e cazzo e dai e dai 2 a 2 2 a 2 2 a 2 2 a 2 come su squid game sfida finale con le biglie oh ma ce la fai oh le trovate in mano una delle due persone dovrà avere un tot numero di biglie in mano o pari o dispari e l'altro dovrà indovinare se vince mostrerà quante biglie ha puntate in mano e in base a tutte quelle biglie che ha puntato le vincerà l'altro tante all'altro a salio se no invece perde quelle biglie che ha puntato quindi inizi tu bussando la mia mano ok ce l'ho questo è il malone con il punteggio eh si si lo sa pari al dispari fra pari al dispari pari al dispari pari chi lo sa pari uno dispari o bussare non bussare non bussare potrebbe essere pari potrebbe essere dispari non è che ci sono molte opzioni pari e dispari e dispari sto gara 3 pari di nuovo display eeeh 16 eeeh ma siamo degli genti uomini ma siamo degli genti uomini e andarci sedici quindi riuscire io avesse e poi può essere fare a display e ci sono vai e e dammi due figlie aaaah il pianghello si riconquista l'impero nooo ma sei ma sei 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 quanto lo dici questa è la mia puntata vai la mia puntata nel senso che è il mio video o fa o no fa è difficilissimo eh è difficilissimo immagina giocare la tua vita madonna eo imbattibile prima o poi lo sa vai 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 e dammi tutto o sei quanto ti dovrei dare sei migli ragazzi ahahah ti sei chiamata situazione? oh dodici a otto tre e e secondo anno secondo anno Noo!